Un corteo di circa 70 trattori ed altrettanti agricoltori si è snodato questa mattina per le vie del centro di Cerignola attraversando anche alcuni chilometri della Statale 16. Si tratta degli agricoltori del movimento spontaneo che da due giorni sono in presidio fisso in via Malfredonia alla periferia del comune. Stiamo manifestando per far capire alla popolazione le ragioni della nostra protesta, dicono. Una delegazione da Cerignola si è recata a Montesilvano in Abruzzo dove si terrà un incontro con le delegazioni di altri presidi in Italia per stilare un cronoprogramma da presentare al governo e stabilire come procedere con le manifestazioni. Al corteo per un tratto si è unito anche il sindaco di Cerignola Francesco Bonito. Gli agricoltori fanno sapere torneranno a presidio dove resteranno in attesa di risposte.